Divennero forti in guerra, ebrei 11.34 Ci piacerebbe raccontarvi la storia di un eroe, un eroe dalla fede, che si chiamava Florea. Angelina, mi aiuti con la storia? Si chiamava Florea, morì nella prigione di Gerla, in Romania. Era stato picchiato fino a paralizzargli entrambe le braccia e le gambe, perché si era rifiutato di lavorare durante il giorno del Signore. Riusciva a muovere soltanto il collo. È già sgradevole stare in simili condizioni in famiglia o in un ospedale, ma egli si trovava nella cella di una prigione, dove i suoi compagni di galera non avevano né acqua, né lenzuola o altro per aiutarlo. Avremmo dovuto imboccarlo con un cucchiaio, Ma dove trovare un cucchiaio? Eppure, era il più allegro e il più sereno di tutti noi. Il suo volto risplendeva. Quando a volte noi prigionieri sedevamo attorno al suo letto, rimuginando sui nostri dolori, lamentandoci della nostra sorte, egli diceva, Se la vostra sorte è cattiva, guardate al cielo. Santo Stefano, circondato da uomini che gli lanciavano sassi, abbandonato dai membri della sua chiesa al momento della dura prova, guardò in alto e vide Gesù alla destra del Padre. Se ciò confortò il suo cuore, conforterà anche il vostro. Guardate in alto. Dio benedica e morì in prigione. La storia continua di quello che lo racconta e dice, Quando veni rilasciato dalla prigione, parlai con il figlio di Florea, un ragazzo di nove anni, gli raccontai della fedeltà di suo padre fino alla morte, e aggiunsi, Spero che diventerai un uomo buono come lui. Mi rispose, Fratello, vorrei diventare un sofferente per Cristo, come lo è stato mio padre. Non vi è legge che obblighi i cristiani ad essere tristi, tiepidi, vili. Il cristianesimo può significare eroismo. Amore vuol dire sacrificio. Immaginiamoci noi in una prigione. Questo qui era paralizzato a entrambe le gambe. Anche le braccia. Perché ora le avevano picchiato e menomato che si era rifiutati di lavorare durante il giorno che adoravano il Signore. Credo che la domenica. Cambio in base alle religioni. Fratelli, prepariamoci adesso, perché quando viene il tempo del marchio della bestia, che dovremmo essere disposti a essere torturati, uccisi. Però il Signore ci darà la grazia, come dice qui Santo Stefano, mentre lo lapidavano, lui guardava in alto, mentre gli lanciavano i sassi. Li pregava per il bene, per il perdono dei suoi assassini. E questo è l'amore che dobbiamo avere. Studiamoci adesso. Se adesso non riusciamo a perdonare i nostri nemici, quelli che ci fanno del male, come potremmo perdonare quelli del marchio della bestia? Quando ci butteranno in prigione, ci uccideranno, perché rifiuteremo il marchio? Quando vedremo fratelli al nostro fianco, che lo accetteranno, e rinegheranno la fede, e rinegheranno l'eternità, rinegheranno i premi eterni, pur di avere un piatto di minestro come Esau. E adesso che bisogna prepararsi. Adesso che dobbiamo allenarci. E come? Come fai a prepararti adesso a sopportare cose ingiuste, tanto dolorosi come questa storia? Come fai ad essere preparato? Guarda, io non lo so. Ciascuno deve pregare, e vedere come la sua situazione, ogni croce è diversa, ogni situazione è diversa, ogni persecuzione, ogni afflizione, ogni difficoltà, ogni persecuzione del nemico è diverso. Dobbiamo vedere in che situazione siamo, e semplicemente addestrarci a vincere il piccolo nemico, la piccola battaglia, la piccola malattia, così che quando arriveranno i più grandi, saremo soldati addestrati. Se il soldato non si addestra a camminare come un guerriero, come un soldato, come farà correre, come farà sparare, come farà lottare corpo a corpo col nemico, il nostro combattimento è nello spirito. Dobbiamo addestrarci. Quando c'è una piccola malattia, e dice, ma qui basta una pillola, perché devo pregare? Qui basta una pillola, perché mi devo disperare per guarire, di una piccola tosse, un piccolo raffreddore. Beh, stai attento, perché quando arriverà la malattia mortale, tu non avrai imparato a vincere la malattia più piccola. Ma se vinci la malattia piccola, se sei fedele nel poco, tu potrai vincere la malattia grande. Sarai fedele nel molto. Quindi stai dicendo che nei momenti difficili prenderli come un addestramento, come quella scrittura che ha citato in Ebrei 11, divennero forti in guerra. Cioè, quando è il momento di guerra spirituale, essere forti, addestrarci, resistere, combattere, è il momento di addestramento. Sì, così dobbiamo. Così dobbiamo. E non siamo pronti, non siamo capaci. Io non sono capace, io non sono pronto. Io predico, ma non è che sono pronto a morire adesso. però dobbiamo prepararci. Però, non sono pronto a morire adesso, ma devo prepararmi perché può capitare fra prima di quello che penso. Hai detto, l'altro giorno, parlavamo qui tra di noi, in famiglia, e hai detto durante la preghiera che non è tanto doloroso morire come martire e soffrire per Gesù. E hai detto, non è vero che una persona malata di cancro, che soffre in ospedale per mesi e mesi, soffre di più che un martire che di un colpo è martirizzato. È più difficile per il malato di cancro. Difficile uno che è malato per anni e anni e soffre all'ospedale e non c'è neanche il conforto che sta morendo magari un ateo. Non c'è neanche il conforto che muore come cristiano e un ateo. Amen. Quindi non dobbiamo spaventarci dalla morte, dal martirio. Dobbiamo solo essere dentro la volontà di Dio e confidare in Lui. Nel nome di Gesù Cristo impariamo ad essere fedeli nel poco. Impariamo a vincere i diavoli piccolini. Se vinciamo i diavoli piccolini vinceremo anche i grandi. Vinciamo i problemi piccoli, le difficoltà piccole, le malattie piccole vinceremo le grandi. Ma se non vinciamo i problemi e i mali piccoli non vinceremo i grandi. Amen. Signore Gesù aiutaci ad essere sempre willing disposti a ricevere qualsiasi cosa tu mandi nel nostro cammino che sia gioia o dolore qualsiasi cosa che è per la tua gloria. A volte dobbiamo soffrire per dare una testimonianza più grande però sappiamo che c'è anche una ricompensa che tu darai insieme a quella sofferenza. Quindi non essere spaventati perché mi aspetta una prova un dolore ma sapere che con Cristo io vincerò. Con Cristo imparerò tante lezioni importanti. Signore darci questo desiderio del cuore di fare qualsiasi cosa tu desideri per noi senza avere paura senza cercare di evitare per avere una vita più comoda ma sapere che in quella sofferenza sarà anche una dolcezza una così bella comunione con te Signore che non si può ottenere in nessun altro modo solo attraverso quella prova Signore taci a dare tutto il cuore anche in mezzo alle prove nel nome di Gesù Amen nel nome di Gesù facciamo le nostre le nostre affermazioni di fede Signore io posso in Cristo che mi fortifica Signore io con lo Spirito Santo posso fare miracoli Signore tu puoi usare me Signore perché io sono disposto io sono volenteroso Signore sono qui usami nel nome di Gesù Cristo Amen Dio vi benedica fratelli un bacio e un abbraccio Amen